Questo gioco è un po' come avere i boldi Ma mettergli il trucco E poi diventa sto schifo Esattamente questo, non potrei definirlo meglio Benvenuti su Launch Lady Un gioco che dovrebbe essere co-op Ma siccome non ho amichi Me lo gioco in singolo Forever Gabbone Difficoltà Launch Lady, Launch Lady Ho sentito dire che è appena uscito su Steam Ma so solo questo, quindi mi scagazzerò Da tutte le parti, sulle paletti Ruba dieci pagine Slender like Guarda che bella scuola Almeno è fatto bene i movimenti La torcia, la mano, filenca Mi piace Allora, vai nella zona B o nella zona A A, B, C, D, F, G Vado qui, sento già brutti rumori Quindi credo che devo sbrigarmi Comunque vedete, molto boldi stai Entri nelle classe, prendi le robette Ho la chiave dell'ala C Devo trovare la K per l'ala Ah, devo entrare in tutte le classi E praticamente prendere i compiti Prendere le robe Prendere i medi Chiudi la porta che non mi senta Perché c'è una lurida C'è una lurida qui C'è una lurida che ti segue E non voglio vederla Allora, questa è l'ala C Sì che è l'ala C L'ho trovata Signora, non ho fame Perché è la signora della mensa, credo Che è impazzita Ha mangiato i bambini E poi gli è venuto un leggero mal di panza Ma quanto scuola di boldi Da 1 a 10 è sto posto Ah, ok Devo trovare anche una Delle chiave che mi bordano di sopra Ma una mamma Ma una Ma una Questa è una classe, ok? Questa è una classe C'è un compito per me Professore Professore Questo Uh, ne ho preso 1 Ora coppio Posso copiare la verra africa Ma brutto tempo, signori Oh Poppororo Poppo Si sta arrabbiando? Più ne prendo Più si arrabbia Funziona così? Ho trovato la chiave Bene Bene B sta per bene No È qui Per fortuna che la porta è chiusa a chiave Quindi non appena andremo nell'ala B Trovo quella signora Quella se mi cade sopra Mi schiaggia come una guardina Beh, abbiamo visto che l'ala B è questa Ora ho le porte E ne abbiamo un altro Tre 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 Rellini Oh Oh Ok No Dobbiamo muoverci Un'altra chiave La chiave per le scale Posso andare anche al piano di sopra Praticamente ce ne sono tante di posti Lei adesso è nella Eh, adesso lei è andata dove ero prima È scema Oh ragazzi Forse lo vinciamo senza jumpscare Se lo vinco senza jumpscare ragazzi Sarà un walking simulator Passeggiata a scuola simulator Lo chiameremo sto gioco Me lo faccio così La frego tantissimo Ma la frego tantissimo Tanto Eh, tre su dieci Chi ci va al piano di sopra Nessuno Nessuno si va al piano di sopra Se non io È la beppa Porca vacca di sopra Oh no Qua nei bagni è impossibile che ci siano compiti No, chi si porta i compiti in bagno Non una persona sana di mente Però ho trovato un'altra chiave La chiave dell'ufficio del preside Oh, vi giuro è difficilissimo Oh Bambambambambambambambambambambambambbambambambambambambambambambambambambambambambambambambamb�� Se lo che è difficile Oh, è di sotto Oh, è di sotto Oh, è scema Oh, è scema Oh, si è corta Ora vado di sotto anch'io Come dire che me la trovo davanti Lurida maggera Lurida maggera Perché ci sono le valvole? Non capisco Anche Oh No 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 No! Scappa, corri, scappa! È una lurida! No, no, no. No! 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 Ah! Mi ha fatto ma... Ma dai, come ha fatto? Ah! Ah! No, non sotto... Non voglio vederla, non voglio vederla. Signora, sta morendo, sta morendo. Sì, mi ha ucciso, sono palesemente morta. Mi tenga per dopo. Mi tenga per dopo. Mi tenga... Se ne vada. Ok, ok. Però niente, mentre sono morto, non mi fa niente. Mi sono qua che mi resto, non si è accorta. Non si è accorta che ho il Medipick. Non si è accorta che ho il Medipick. È proprio scemo nella testa. Quanto grasso c'è nel cervello. Oh! Chi se l'aspettava? Signora, cosa... Ma è partito tutto da qui? È partito... Ah! Mi ha mattato una valvola. Ma dai! Ma dai, c'erano 118 valvoli che non mi hanno ucciso. Arrivo a quella e mi uccide. Basta, ma cerco un gioco. Si può giocare anche online? Quindi mo' entro nella partita di un altro. E almeno mi faccio aiutare. Questa volta sono entrato in una partita online di uno a caso. Eh, bella! Hai già cinque pagine? Sono contento! Così non devo rifare da... Signora, c'è un problema... Prenda lei! Prenda lei! Prenda... Prenda lei! Ok, brava! Scappiamo! Non c'è tempo da perdere! Che caspio stai facendo? Dove sono le pagine? Mi dica dove sono le pagine? Dove... Dobbiamo trovarle pagine? Dobbiamo trovarle pagine. Sì, esatto! Dove sono? Dove sono? Ne ho bisogno. Ok, ok, andiamo. Seguimi! Seguimi! E non... Oh, porca vacca! È arrivato anche Joshua! Joshua, perfetto. Le pagine. Dobbiamo trovare le pagine, boys. Le pagine. Le pagine! Dobbiamo trovare. Followatemi! Che dobbiamo prendere. Adesso la gang del bosco, ragazzi. La gang del bosco. Ce la posso fare. Dobbiamo trovare... Lasciamo le porte aperte, perché sennò non sappiamo dove siamo stati. Porco schifo! Lei ha tirato! Sei un lurido! Sei un lurido! Da te no... Non... Non chiudetemi! Non... Non chiudetemi! Sei uno scemo! Sei uno scemo! Eh, mu... Sono contento che sei morto. Te lo meriti. Te lo meriti. Te lo meriti. Ok. Io non me ne frego degli altri. Gli altri sono diversivi per me. Io li lascio morare. Ciao! Bellissima! Non puoi... Ah! Può aprire le porte! No! 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 Non darmi la pentola! Non darmi la pentola! Chiudi la porta! Corri! Scappa! C'è la donna Emesus! Mi ha tirato la pentola! Ma ha sbagliato di brutto! Ha sbagliato di brutto! Non può farmi questo! Datemi una mano! Datemi una mano! Scemi! Sono qua e qua! E qua! Ma quanti siamo? Siamo in quattro scemi! Ragazzi, in quattro non ne facciamo uno di buono! Per fav... No! No! Ci ha trovato! Ci ha trovato! Ci ha trovato! Vai avanti tu! Vai avanti tu! Dai che vada quelli sotto! Va che da... Va... Vai che vada quelli sotto! Dai ragazzuoli! Dai ragazzuoli! Dai ragazzuoli! Ce la possiamo fare! Su uomini! Su uomini! Su uomini! Dai! Che saranno mai? Occhio che là c'è la ventola pazza! Che mi ha ucciso! Occhio che qua c'è la ventola pazza! Vediamo se parte ancora... Vedi? Vedi che c'è la ventola pazza! E non si può andare! Ora posso andare! Cos'è sto schifo? Ma è nato da qua! Let's go! Vai che stiamo trovando pagine a go go! No! Ok! Qualcun altro l'ha... L'ha trovata! Ok! Non mi ha visto! Mamma mia! 7 su 10! Ne abbiamo trovato! Aiuto! 7 su 10! 8 su 10! Stanno... Stanno trovando tutto! Stanno trovando tutto! Siete dei grandi! Dai boys! Dai se ne trovo un'altra! Sono felice! Yes! 9 su 10! Dai! Dobbiamo andare al piano di sopra! Vedi? Dovremo entrare qui dentro! Ma è chiuso! Ci serve la chiave B! L'ho trovato io l'ultimo! Sì! Vado subito all'uscita! L'ho trovato io l'ultimo! Sono stato quello che ha fatto la roba finale! Non posso andarmene! Devono venire i miei amici qua sotto! A scemmi subito qui sotto! Che lasciamo la pazza! Ce l'ho fatta! Ce l'ho fatto tutto io! Io ho preso la pagina finale! Porca zozza! Dai! Prima che arrivi la bestia! Dai! Devo salvarvi pure il sedere! Devo salvarvi pure il sedere! Devo far tutto io qua! Sono il bidello che deve pulire! Va bene! Va bene! Manco tipo gli struzzi! Camminano così! Però va bene! Dai ci abbiamo fatta! Dai boys! Qui! Che stiamo aspettando? State aspettando l'ultimo scemo! Sta arrivando il treno! Sta arrivando il treno! Dietro di te! Aia! Ok! Ha fatto fuori la mia amica! Ha fatto fuori la mia amica! Curala! Bene! Dai! Cliccate qua! Dai! Che siamo tutti! Oh! Bravi ragazzi! Bravi! 14 minuti! Non siamo riusciti a farne uno buono! Quasi! E vai! Vabbè! Questo era tutto per questo gioco! Veramente gioco così! Trovato su Steam! Bruttissimo! Ma! Mi piace anche perché! Commentare questi giochi è divertente! Perché ti escono dei commentari stranissimi! Andare con la gente a caso! Poi! Vedere le facce! Sbigottite dei loro NPC! Non apprezzo! No! C'è la 4,99€ su Steam! Per il resto! Spero che comunque vi abbia star fatto una risata! Noi ci vediamo alla prossima! Bestia!